bello a tutti ragazzi sono qui e benvenuti in questo nuovissimo video di gta 5 vita reale scusate no busimo letto al 21 ragazzi possiamo partire pensavo di andare stai calmo volante mannaggia pippo pensavo di andare dal negozio a vedere un altro mezzo da prendere la gente è molto tranquile tanto andiamo e 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 Grazie a tutti. Andiamo a destra. No. Allora, ho fatto il danno. No. 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 Ma porca Va buona Ah si un bi l'ho toccato Niente di che Vediamo se ho toccato Vabbè ho tirato giù tutto Adesso non prima Però facciamo così Un attimo che vi voglio paccheggiare Tutte le due belle pc Non ce la faccio fare tutta la manovra Quindi devo Tutte le due belle Guardiamo sia di bellezza E sia di guida E l'altro che non credo Che non ve l'ho mai fatto vedere Che è Esattamente lui Quando lo compriamo Comprimiamo anche la gemella Diciamo minore Grazie a tutti E l'ho più nemmeno che è di guida questo è comodo per questo motivo il modello allungato un po' meno ma gira un botto un po' meno prendiamoci l'altro non città un po' meno un po' meno un po' meno bellissimo adios amigos e ora ci prendiamo questo bel pulmino devo prendere questo lo vado a pitturare e poi anche l'altro diciamo corto un po' meno però semplifichiamoci la vita e facciamo quindi tac tac ecco 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 che bel parcheggio che belli sono a voi ragazzi ci vediamo nel posto unito e bella a tutti alla prossima, ciao